Un ordigno artigianale è stato disinnescato nel primo pomeriggio di oggi a Pistoia. Era su un'auto parcheggiata in Viale Adua, all'altezza di Ponte Europa, la periferia della città, che è stato chiuso in attesa dell'intervento degli artificieri della polizia. Esclusa al momento l'ipotesi di un'azione collegata al terrorismo. Sono in corso indagini sul movente, tra le piste seguite dagli investigatori, anche quella di una vendetta nei confronti del proprietario della vettura. Quest'ultimo è un cittadino albanese già conosciuto alle forze dell'ordine. L'ordigno era stato realizzato con un tubo di gomma riempito con benzina e polvere pirica collegato ad un innesco. A dare l'allarme, lo stesso proprietario dell'auto salendo sulla vettura avrebbe trovato quello che poteva a prima vista sembrare un grosso petardo. Ha così chiamato lui stesso la polizia. L'area è stata isolata in attesa dell'intervento degli artificieri che hanno operato con il cannoncino ad acqua. Concluso l'intervento, la strada è stata riaperta. Una vera e propria bomba, insomma, che se fosse esplosa avrebbe procurato un bel po' di danni. La miccia di 15 centimetri è stata trovata bruciata a metà e anche il sacchetto di plastica che conteneva l'ordigno era bruciacchiato dal fuoco. Ma l'innesco si è spento prima di arrivare alla polvere pirica e così la benzina, per fortuna, non è esplosa.